Ho colto con grande entusiasmo la chiamata di Cantù perché è una società ovviamente di grandissima tradizione e quindi sono venuto veramente molto volentieri a finire questa parte di stagione per cercare di raggiungere questo importante obiettivo. Ho conosciuto anche già i dirigenti, devo dire che effettivamente c'è grande voglia, grande determinazione, c'è grande volontà di portare a termine nel migliore dei modi questa stagione. Sono qua ovviamente per questo obiettivo, lo faccio veramente con grande passione, affronterò questo nuovo percorso con grande determinazione perché mi rendo conto quale sia la sfida che dobbiamo affrontare e quindi veramente metterò tutto me stesso perché in questo momento mi sento veramente molto coinvolto e soprattutto anche molto responsabilizzato da quello che Daniele e tutti gli altri dirigenti ieri mi hanno detto. La squadra che già ho allenato ieri è stata molto disponibile, sarà molto importante il loro apporto, il loro contributo, sarà molto importante la loro voglia di riscatto, però sono convinto che con il lavoro, ripeto, porteremo a casa quello che la società vuole.